C'è un terzo candidato alle primarie del Partito Democratico calabrese che stabiliranno chi sarà il candidato governatore della Regione Calabria. Gianni Speranza ha confermato infatti la propria partecipazione a questa corsa a tre proprio nelle scorse ore, dopo aver ottenuto le oltre 4.000 firme necessarie come stabilito dal regolamento del PD. A renderlo noto il comitato Cambiamo la Calabria che sostiene il sindaco di La Mezzia Terme. Dopo Gerardo Mario Oliverio, la cui candidatura non è stata mai messa in discussione, l'entrata in scena di Gianluca Callipo e l'uscita di Massimo Canale. Dunque si prevede una corsa a tre. Un ringraziamento speciale scritto in una nota a tutte le cittadine e cittadini calabresi che hanno spontaneamente firmato per Gianni Speranza presidente. Ed un ringraziamento particolare a tutti i volontari e a tutti quelli che in questi giorni, con il caldo al mare o sotto la pioggia, in tutta la regione hanno allestito banchetti e raccolto firme con il porta a porta. Questo è solo il primo passo, il prossimo sarà quello di vincere le primarie del centro-sinistra il prossimo 21 settembre. Abbiamo raccolto in tutta la regione, affermano infine dal comitato Cambiamo la Calabria, oltre 6.000 firme, anche se il regolamento per le primarie prevedeva la possibilità di depositarne fino ad un massimo di 4.000. I dati ottenuti dalla raccolta firme hanno registrato in pochi giorni oltre 1.200 firme in provincia di Cosenza, oltre 1.000 in provincia di Reggio Calabria, oltre 800 in provincia di Crotone, 500 e più in provincia di Vibbo, passando poi per la Mezzia che da sola ne ha raccolte ben 1.600 e l'intera provincia di Catanzaro con oltre 2.000. Abbiamo davanti a noi un mese e mezzo di campagna elettorale fino al 21 settembre e abbiamo bisogno del sostegno di tutti per cambiare la Calabria insieme a Gianni Speranza.